Buongiorno ragazzi, benvenuti o bentornati in un nuovo vlogmas Perdonatemi se ieri non c'è stato nessun video Ma sono stata con il signor fidanzato e non volevo stare tutto il giorno a vloggare Anche perché era l'ultimo giorno che passavamo insieme Prima che poi mi accompagnasse in aeroporto E quindi ho preferito così, ho detto va bene così ce ne faremo una ragione Tanto lo sappiamo, ogni anno io parto col presupposto che farò tutti i vlogmas E poi c'è sempre qualcosa che ovviamente salta perché a volte ci sta Guardate che sembra una cavolata ma è impegnativissimo fare un video ogni giorno Detto ciò, oggi è il mio ultimo full day giorno pieno in Corea Perché appunto domani parto Ragazzi non mi sembra ancora vero Cioè io non ho realizzato secondo me perché mi sento troppo tranquilla Cioè ho tipo le mie amiche che dicono Io non vedo l'ora, meno uno E stai preparando le cose Devo partire tra esattamente 24 ore Non ho fatto neanche un bagaglio che sia uno Vabbè che ho letteralmente una valigia e lo zainetto da preparare Io di solito faccio tutto all'ultimo minuto Cioè quando preparo le valigie Che comunque lo vedrete nel video di oggi Faccio tutto all'ultimo Perché se iniziassi a fare le cose prima So che mi scorderai qualcosa Se invece metto tutto all'ultimo La mia mente è più fresca sull'argomento E mi ricordo quello che ho messo Almeno sto tranquilla Qui abbiamo signor Cagnolino Che oggi deve essere portato dalla zia E questa cara è troppo intelligente Perché è da ieri che mi fa dei comportamenti Tutti un po' pollicchinati Un po' così Quanto a me mancherà Questo bambino di mamma Troppo manca mamma già Oggi dobbiamo anche trovare il tempo Appena Ross mi fa sapere bene a quale ora io posso andare Diciamo io volevo portarlo la mattina Però so che lei si sveglia tardi Quindi vabbè Perché almeno facevo le valigie E riuscivo a pulire casa e tutto quanto Ce la faremo Quanto a te mi sono svegliata prestissimo Perché ormai il mio cervello è settato Sul fatto che io debba dormire 5-6 ore 5-6 ore per me sono sufficienti Quindi sono andata a dormire alle 2 E mi sono svegliata alle 7 Quindi 5 ore esatte Sono rimasta un pochino nel letto E mi sono svegliata alle 9 Adesso poi vabbè è tempo Mi sono svegliata tutte le robe Iniziamo questa giornata Inizieremo prima Non volevo fare la valigia davanti a me Perché poi capiva Quello che stava succedendo Perché ripeto lui è un cane Troppo 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 intelligente E ha il trauma delle valigie Anche quando vedevo a Genna Che faceva la valigia Era tipo Così Però vabbè Devo farla Devo farla La cosa bella di fare la valigia Questa volta Rispetto a tutto il resto delle volte Nella mia vita Che letteralmente Sto tornando A casa Tra virgolette Dove ho lasciato comunque Delle cose Dove ho le mie cose Quindi anche se Non dovessi portare Tutto quello che mi serve Che poi che cosa mi serve Esattamente Cioè Niente di Eclatante Cioè Per i trucchi Penso La prima volta nella mia vita Che porterò un beauty piccolino Perché poi ho da portare Altro trucco Da casa in Italia A qui Vestiti Idem Più che altro Devo mettere All'interno Mi stavo ricordando ieri Le mutande Le mutande Sono una di quelle cose Che io tipo L'ho prese quasi tutte Quelle che avevo a casa Quindi magari quelle Che poi non è che devo rimanere Proprio due giorni Insomma Sono quasi tre settimane E poi ovviamente Tutte le cose che ho comprato Cioè principalmente La mia valigia Sarà piena Delle cose che ho comprato Da Da portare in Italia Stavo controllando Anche sulla mia lista Perché mi ero fatto una lista Delle cose che avevo detto Che compravo qua Che dovevo portare E ho preso quasi tutto Manca una crema Per Alessia Che però devo andare Vicino a casa di Rossi Quindi una volta che lascio Ami Poi vado al negozio Di Tamburins E compro insomma Quello che devo prendere Alessia Tra l'altro ieri Vi faccio vedere anche Che ho comprato Un altro Sony Angel Sono usciti questi Con le catenine E ragazzi Che grandissima Botta di Q Mi è uscito questo Che è l'edizione speciale Del coniglietto Io volevo L'edizione del coniglietto viola Siamo andati Confidenzato Alla fine a vedere So Tra l'altro Bellissimo Mi è piaciuto un sacco Io ho grandissima fan Di So ragazzi Tutti i film Questo è stato interessante E appunto Mentre che stavamo aspettando Avevo preso questo Da Artbox Che ripeto Adesso i Sony Angel Cioè vanno a Ruba Però mi chiede Dove si possono comprare In Italia Perché ho visto i direct Su Instagram E non so Cioè cercate su Vinted Magari c'è qualcuno E li rivende Perché su Amazon Costano Follia Cioè per me è veramente Una cosa assurda Che qua li compriamo Per tipo Forse 10 euro Alcuni anche meno Su internet Li rivendono a 60-70 euro Voi siete pazzi Comunque La gente Veramente fuori di testa E stavamo aprendo E gli avevo detto No voglio il coniglietto Quello grape Che appunto era Culo viola Lui apre la bustina Della catenina E mi fa Vai apri apri Perché aveva visto Che era verdina Quindi pensavo Che era un altro E io tastando la bustina Però sentivo Le orecchiette Del coniglio Quindi ero tutta gasata Sì ce l'ho fatta Apro E non era il coniglio viola Era questo Che su internet Lo rivendono Tipo a 100 e passa euro Ragazzi Cioè questo è tipo Altro che Il ciondolino De Louis Vuitton Adesso Questo me la scippano Fu da caso Mi è uscita l'edizione Quella speciale Che è tutto lo grafichino Tutto un po' unicornoso Io amo i Sony Angel Lo sapete Ce l'ho pure Sul telefono Eccomi qua Come capire Che vieni dalla Corea Eccomi Quindi ragazzi Solita routine Adesso faccio colazione Mi sono rimaste poche cose Nel frigo E le altre Penso le porto appunto A rosso Cioè tipo le verdure Quelle robe Che tanto so Che lei se le manda Poi vediamo un attimo Di iniziare A organizzare Il mio piano È quello Di iniziare Con lo zaino Quindi mettere Le mini size La skin care La maschera In tessuto Che voglio fare in aereo Perché sempre E tutte quelle rubine Così Gli snack Che dovrò mettere Diciamo Nella valigetta Nel bagaglietto a mano Zainetto Chiamatelo come vi pare Li compro domani In aeroporto In qualche 7-11 O convenience store Blah 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 E soprattutto Non ho il bagaglio a mano Quello tipo valigetta Perché la scorsa volta Che sono venuta in Corea Quindi quando mi sono Trasferita e tutto Ovviamente stavo con Ami E il cane In aereo Oltre che Devi pagare Perché devi pagare Il posto del cane In più È considerato come Bagaglio a mano Quindi non ti puoi portare La valigetta piccola Ah e update Perché l'avevo detto Nello scorso video Stavo finendo di fare Il check in Quello definitivo Per il posto in aereo E l'incubo ragazzi È successo Hanno preso il posto Vicino al mio E non so se è anche Quello dell'animale Se non sono da sola Nella fila Poi ho Tutto può succedere Non ne ho idea E quindi Sarà interessato Sto liberando Il frigo Ho preso le cose Che posso portare a Ross E che so che magari Le può mangiare Poi butto le cose Vuote Lettino sistemato Devo soltanto Spelacchiarlo Da i peli del signor Cagnolino E qui c'è il vero Disastro Perché sto dicendo Quale valigia portare Perché io mi ricordo Questa Bella cabiente Ok Però mi avevano Semirotto la rotellina Quindi devo Capire Nel caso insomma C'erano altre tre Non è che mi mancano Le opzioni Quindi magari porterò Una Di quelle Questa è la camicia Che aveva lasciato Alessia Che le devo riportare Poi ovviamente Gli ho detto Devo pulire tutto quanto Ma quello poi lo farò A valigia chiusa Maschera Da mettere Lì dentro Comunque devo decidere Come fare Il beauty Da portare Nello zainetto Che è questo Qua appunto Ho tutte le robe Da mettere Da mettere in valigia Diciamo che Vorrei fare una metà Con quello E nell'altra Puoi mettere I vestiti E insomma Tutte cose Ti ripeto Per quanto riguarda Vestiti E cose vere e proprie Diciamo da portare Non voglio esagerare Perché poi Devo riportare Un po' di cose Sto mettendo Tutte le cose In valigia O meglio Sto cercando Perché già mi sento In alto mare E poi Quando arriverò A casa Metterò Tutto A posto Vedete tutti i pacchetti Questi qua Che avevo Incartato Sempre sperando Che ovviamente Non si rompa nulla Questi qua Sono tutti Gli hot pack Che sono Praticamente I cosini Quelli che se scecherate Vi diventano caldi Che ho preso Su coupang Per il fidanzo Di mia sorella E questi qua Che sono Gli album Di Alessia Invece me li mettono Nel bagaglio a mano Quindi Faccio questo change Almeno Con gli album Spero non mi fermino Qui le cose Che non ho ancora Incartato Sono tutti Per luce Per luscini Però secondo me Ce la posso fare Il mio problema Ora è che Rosalba Non mi ha ancora risposto Quindi Ho deciso Che alle due Prendo parto Così non c'è Tanta gente In metro A quell'orario E col cane Sto tranquilla Che sinceramente Pagare 25.000 One di taxi Io Non c'ho voglia Quindi Via Poi faccio i giri E poi appunto Torno Che riesco a finire Tutte le cose Vi giuro In alto mare oggi Però finché non posso Ami Sapete No Ho quel pensiero Lì che devo fare Questa cosa E questo è quello Che vi dicevo Del signor Ami Guardate come sta Appena vedo una valigia È venuto qua E mi si è appoggiato Ecco l'amore No Che è successo Tu hai capito Hai capito Che cos'è una valigia Guardalo Mamma mia Che appiccicosino Poi dobbiamo andare Da tia Sei pronto A andare Da signor Gucci Da signor Gucci Dov'è Gucci Dov'è No non è qui No non è qui Rosalba mi ha finalmente risposto Quindi verso le tre Mi avvio verso casa sua Cosa importante Che mi sono ricordata adesso Che devo prendere ragazzi A parte vabbè Passaporto Che tra l'altro vi faccio vedere Ho questa All'interno Mi devo ricordare Di mettere La scheda del telefono Italiano Che è uguale a questa Della valigia Che poi Attenzione È uguale Al portacarte Che uso tutti i giorni Pazzesca io Ora devo preparare Questo Alla fine ho deciso Di metterci Le cose per lo zainetto Quindi Qua troviamo Tutta la mia Mini skin care Sieri Robine Tutte le mini size Come vedete Di Iepda E poi devo preparare Il beauty dei trucchi Nel beauty dei trucchi In realtà Voglio metterci Le cose che uso tutti i giorni Che sto usando tutti i giorni Per truccarmi E niente di più Quindi Il beauty più piccolo della storia Birciatina di quello che c'è all'interno Poi vi farò vedere meglio Quando sarò sull'aereo E quando Utilizzerò il tutto Anche perché voglio registrare Dei video sviziosi Così occupo anche il tempo Nel mentre faccio qualcosa Qui dentro Ho già messo i pennelli E gli accessori per il trucco Ecco qui il bambino Sta per essere Pondolato Amichetta Amichetta No Lo sa cosa fa per succedere Ciao Che fazia Sono arrivata a Shinza La cosa bella è che Da casa di Rosso Ci si può arrivare a piedi Quindi camminando Adesso vado da Tamburins E poi Vado In questo Starbucks Per vedere se ci sono Altri Donnie Angel Perché Regà Continuo a chiedermeli tutti Io quando posso Tento Se proprio non posso E ovviamente non posso Comunque Questo è Il negozio Qua con il nostro Gianni fuori Qui adesso entro Tanto so cosa devo prendere Sarà molto veloce Sono tornata a casa Mi sono fatto un piantino Stavo camminando Stavo piangendo Mi si è congelata Ragazzi Letteramente una lacrima sul viso Comunque Piantino una mamma apprensiva Poi sono entrata dentro casa Un altro piantino Perché Non c'era amico E mi veniva a trovare Questa cosa mi uccide Comunque Adesso mi ucciderà Qualcos'altro Perché Devo mettermi A pulire Voglio pulire tutto quanto Prima di uscire Ho spruzzato Il prodotto Per pulire Questi cosi Perché Sarebbe il sotto Del qua Dove scolano i piatti E ovviamente Dopo un po' che non lo pulisco Diventa così Cioè dopo un po' che non lo pulisco Tipo una settimana Le ciotoline di ami Adesso pulisco quella E pulisco pure quella Ultima cosa Ovviamente Il pavimento Eccetera E adesso passo anche Allo spolveraggio Questa stanza È stata Completamente Disinfettata Sto pulendo appunto Per terra Pulito qua Tutto quanto La polvere Anche lì sopra Dentro i cassetti Di tutto Stessa cosa qui Mensole Eccetera Sto Speracchiando il letto Come vedete Con la spazzolina Questa è la cosa Che odio fare di più Perché ogni volta È un casino Guardate Volevo portare anche La coperta a pulire Perché qua vedete Dove dormiamo C'erano tutte queste macchioline Che praticamente è la sua La salivetta Di quando dorme Quindi adesso provo un attimo A pulirli Con magari qualche prodotto Qualcosa E poi quando torno Questa la laverò Sono a buon punto Onesta Mi sento fiduciosa Anche perché Nella valide ho messo quasi tutto Sono neanche le sette Spero il letto Faccio la camera E poi break Per cena Alla fine Penso mi farò Questo Topo qui Per finire In bellezza Qui ho anche un po' di Cheese avanzato E la fish cake Che alla fine era venuta buona Vi posso dire Lì ci sono poi Le buste che devo buttare Queste le ho già cambiate E le lascio appunto Vuote Devo solo togliere Quella lì Del bagno Ovviamente pulire I sanitari Sto riguardando Twilight Nel mentre Dopo chi è pronto È venuto bene Devo dire Era un po' Quoso Quindi ho dovuto Togliere un po' d'acqua E ci ho aggiunto un po' di gocciugian Perché solo con la soia Sono le otto Il signor fidanzato mi sta dicendo Che domani Devo accompagnare il padre A fare una visita Quindi Non può accompagnarmi Nel aeroporto Cioè o meglio Nel aeroporto ci vado da sola Poi lui mi raggiunge lì Io ho detto purtroppo Se non farei in tempo Bye bye per sempre Perché è una cosa importante Ragazzi È una cosa importante Io almeno ci tengo Quindi deve farlo Detto ciò Adesso mi godo qua Poi penso Mi farò la doccia Continuerò a pulire L'altra metà Del salotto Perché ho pulito solo metà Non quella dove c'è la valigia Perché Non è fissato È fissato La valigia Ovviamente Tocca per terra Quindi nel momento in cui la chiudo Poi la metto in quell'angolino Lì Delle scarpe Però sono soddisfatta Pensavo di metterci di più In realtà poi ho fatto Pulito tutto Spelato tutto Divano Devo solo poi pulire il fornello Adesso È fine Comunque assaggiamo Li ho provati Quelli rosè E quelli normali Mi mancava questo Quindi ho detto Devo provarlo Fosse un pelino più piccante Sarebbe stato meglio Questo non c'entra a niente Però piace a me Allora Io ho finito di fare tutto Oddio che paura Se faccio Di check Comunque Ho finito di fare tutto Ora scendo Tutto la spazzatura Faccio la doccia E mi metto a editare questo video Così cerco Di dormire qualche ora Poi domani Ho la sveglia alle 8 Così finisco di fare le ultime cose Mi faccio la doccia Eccetera eccetera E verso le Dieci e mezza Più o meno Devo andare a prendere Metro E poi Il treno per l'aeroporto Quindi Spero questo vlog Di preparazione Vi sia piaciuto Ci vediamo Al video di domani Ciao 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 Ciao